Bentrovati, oggi vi faccio vedere un metodo furbino per avviare un lavoro senza stare lì a contare le catenelle. Cosa molto fastidiosa soprattutto quando si devono montare molte catenelle per delle grandi lavorazioni come le coperte, lavori a filet o in tutti quei progetti in cui bisogna stare lì a contare. Uno dei metodi è questo, dal nostro gomitolo srotoliamo un bel poco di filato, la quantità poi dipende dal lavoro che voi dovete fare. Una volta che abbiamo fatto questo, sulla sinistra teniamo il filo che abbiamo srotolato e sulla destra abbiamo il gomitolo con il quale andremo a fare la nostra lavorazione. Avviamo con il classico nudo, cerchiamo di non stringerlo troppo perché poi ci andremo a lavorare, quindi lo teniamo un pochino più lento e cominciamo a lavorare le nostre catenelle. Facciamo conto che io abbia raggiunto una quantità che io ritengo sufficiente ad avviare il mio progetto e cominciamo la lavorazione della prima riga. In genere il primo punto, quello alto, si sostituisce con tre catenelle, quindi se io devo fare un punto alto lo andrò a fare nella quarta catenella a partire dall'uncinetto. Ma io molto spesso utilizzo la finta maglia alta e la faccio in questo modo. Allungo leggermente l'asolina, tengo fermo il filo che ho sull'uncinetto, faccio una torsione verso il dietro e carico un altro gettato. Vedete, vado a prendere il filo, chiudo il gettato che ho caricato e poi le due asole rimanenti per concludere la lavorazione della mia maglia alta. E continuo lavorando un punto alto in ciascuna delle catenelle che ho fatto. Ho fatto tutta la riga a maglia alta lasciando non lavorato il cappietto iniziale. Questo metodo è valido anche per le lavorazioni a filet. Qui sono partita con il giro pieno di punti alti, ma voi se dovete partire con un giro vuoto di punti alti fate i vostri quadretti, una maglia, due catenelle di separazione, lasciate due punti di base e chiudete il quadretto con una maglia alta. Arrivati alla fine, in base al vostro schema andate a contare i quadretti che avete. Se vi mancano dei quadretti, rispettando il multiplo di lavorazione andate ad aggiungere le catenelle che vi mancano. Vi faccio l'esempio di uno schema a caso. Il multiplo di ripetizione è uno, due, tre, quattro, cinque, ventiquattro, venticinque, ventisei. Quindi se io voglio ripetere questo motivo sul mio progetto, devo rispettare il multiplo di ripetizione che è 26. Allora che faccio? Vado a contare le maglie che ho sul primo giro e andrò ad aggiungere le catenelle mancanti per raggiungere il multiplo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, mi mancano ancora tredici catenelle per avere un motivo. Poi per ogni motivo in più andrò ad aggiungere 26 catenelle. Allora che faccio? Lascio un pochino in sospeso il primo giro, riprendo la mia lavorazione sul filo che abbiamo srotolato. Partendo dal cappietto iniziale vado ad aggiungere le mie 13 catenelle mancanti. Quindi 1, 2, 3, 14 e 13 e mi vanno a completare il primo motivo che io ho scelto di lavorare. In questo caso l'esempio dello schema che vi ho fatto vedere. Queste maglie sono il multiplo di un solo motivo. Per cui se io devo ripetere ancora per tante volte andrò ad aggiungere 26 catenelle per ogni sequenza in più che devo lavorare fino a raggiungere la misura che a me occorre. Queste sono le catenelle per un motivo. Ne andiamo ad aggiungere altre 26 per un secondo motivo. 1, 23, 24, 25 e 26. Facciamo conto che io abbia lavorato tante catenelle per quanti moduli di ripetizione mi servono per raggiungere la lunghezza che devo lavorare. Lascio adesso in sospeso le mie catenelle con il filo che abbiamo srotolato e riprendo a lavorare con il filo che viene fuori dal gomitolo. Riprendo a lavorare il mio giro di maglia alta se è un giro pieno o di quadretti vuoti se sono quadretti vuoti fino a completarlo semplicemente. Se non vogliamo stare lì a contare ogni volta possiamo usare dei marcatori che ci possono essere d'aiuto mettendo il marcatore sul punto che chiude la sequenza di lavorazione. Riprendiamo il nostro lavoro secondo lo schema continuando sulle catenelle che abbiamo aggiunto per le sequenze successive e tenendone sempre sul verso dritto. Raggiunto l'ultimo punto di lavorazione facciamo conto che questo sia l'ultimo punto che mi chiude il giro mio di lavorazione. Una volta che ho fatto tutto il giro di punti pieni o punti vuoti o secondo i punti che mi dà lo schema estraggo il filo in questo modo lo vado a fissare di modo che il lavoro non mi si vada a disfare. Se invece vi dovesse capitare che vi mancano ancora tante catenelle e avete esaurito il filo che avete sgomitolato con un altro vomitolo possiamo benissimo riprendere dopo aver fatto il cappietto la nostra lavorazione e aggiungere tutte le catenelle che a noi servono. Fatto il cappietto vado nella catenella e continuo la mia lavorazione. In questo caso faccio qualche punto prendendo anche la codina del filo che vado ad aggiungere. L'altra poi la andremo ad inglobare e a nascondere alla fine della nostra lavorazione. Ecco qui basta solo qualche punto tanto poi ci andremo a lavorare sopra quindi verrà tutto ben nascosto e con il nuovo gomitolo aggiungiamo tutte le catenelle che occorrono a raggiungere la misura che ci serve. Fate tutte le catenelle e fisserete il filo come vi ho fatto vedere prima. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video. A presto!